Sei pronto? No, io sono prontissimo. Ok. Sì, lo so, la nostra pagina è una cosa personale, quindi non tutti lo vedono. Eh? Complimenti, a me no. Mi hanno tutta invidia. Cos'è la presenta del tuo agio, Nicolás? Non lo scrivo, ci scrivo, no records, no, no, nessuno impianto, solo ritorno. Ma vale la pena farci qualcosa? Sì, è doloroso, però alla fine, prima di tutto la vita. Sicuramente il tuo agio? Ok. Non l'ho perso, non l'ho perso. Cos'hai capito in questa conversazione? No, ho capito che gli chiedono se vale la pena farci il tuo agio, ho capito la domanda, ma sul resto, cioè, faccio capire come per sentire. Ci vorrebbe una sottotitolazione in stile pingu? Oh oh oh, la barricana è una storia, ma la barricana è una storia, ma la barricana è una storia, ma la barricana è una storia. La barricana è una storia, ma la barricana è una storia, ma la barricana è una storia. Oh 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 oh, ma la barricana è una storia, ma la barricana è una storia. Ma la barricana è una storia, ma la barricana è una storia, ma la barricana è una storia. Ok ragazzi, adesso ti ho ascoltato, la mia scelta è? La mia scelta è? Ahhhh, e ti lascio in sospeso, ho capito adesso. Non puoi dare una risposta. La mia scelta è? Tu hai i tatuaggi? No. Nemmeno io. Però? Un commento dai, un commento definitivo, ultimo. A me ha fatto ridere, devo essere sincero, a me ha fatto ridere questo video. Per cui il lato divertente, non so se voleva essere divertente o meno, ma a me ha fatto ridere. Ah si, dovremmo anche ringraziare ospite speciali di questa puntata, Pingu. Grazie Pingu. Grazie mille.